buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo video della nuvola home edition oggi parliamo di gatti eccone uno parliamo in realtà di animali domestici gatti volevo fare un video dedicato a loro perché in questo periodo di permanenza forzata in casa mi sono resa conto di quanto sia importante la presenza dell'animale domestico in queste lunghe ore in cui effettivamente un po ci annoiamo un po ci preoccupiamo e la presenza proprio di un animale alleggerisce rende molto più sopportabile il tutto allora volevo condividere con voi questo pensiero e soprattutto condividere con voi anche i miei animali domestici eccole uno questo è Winston ciao saluta Winston ok ciao e questo è Nelson sono i miei due gattoni che mi fanno compagnia io vi ho presentato i miei animali domestici e se volete potete fare lo stesso anche voi inserite nei commenti al video una foto con voi e i vostri animali domestici così che possiamo condividere questo momento assieme all'inomogene anche voi il momento sono i miei miei da quattro non sono i miei due gattoni che mi fanno che mi fanno compagnie Grazie a tutti.